La la la, ciao a tutti, io sono Terebongio Bala ragazzi, qui è Terebongio, è quest'oggi, siamo qui finalmente tornati dopo sei mesi ragazzi C'è sei mesi e mezzo anno per fare finalmente un nuovissimo video Intanto ci sta un tipo che sta salutando in camera ma oggi siamo in compagnia soltanto di una persona ovvero Vertigo Eccomi, buongiorno Allora intanto ci tenevo un attimino a spiegare più che altro perché non ho fatto video fino a questo punto Allora intanto parte Vertigo, perché Vertigo non ci sei stato per tutto questo tempo? Diversi motivi, insomma probabilmente avrete anche notato questo mio canale Se ci passate i video non ci sono più, questo non vuol dire che sono stati eliminati Sono semplicemente stati messi in non elencato, privato, non ricordo bene al momento Alcuni privati e alcuni non elencati a dire il vero Però molto a breve insomma verranno rimessi probabilmente in caso io rinizierò a fare video Perciò non si preoccupi spettatore Invece ragazzi perché noi siamo stati assenti sul canale per sei mesi? Allora come avete visto intanto Scorpion ha chiuso il canale Per chi è che non sa che è Scorpion che magari è nuovo su questo canale Era un mio amico, cioè è tuttora mio amico Che ha deciso di smettere di fare video semplicemente Era una cosa che volevo fare anch'io, devo essere sincero Io non volevo chiudere il canale però volevo smettere per un tot di tempo Infatti per sei mesi io non ho fatto video Però come avevo detto sulla pagina Facebook Che ovviamente trovate in descrizione di tanto Vertigo Mi prende e mi fa volare in giro per la mappa Facciamo un giro turistico di Mindplex Perché sì ragazzi ci troviamo in Mindplex E nulla ragazzi Quindi Scorpion ha chiuso il canale Io sono stato assente per sei mesi Più in là ci sarà un video che risponderà a tutte quante le domande che mi avete fatto in questo periodo Ma dato che comunque non voglio farvi un video noioso Quest'oggi andiamo a giocare a un nuovo minigioco uscito in Mindplex In realtà neanche troppo nuovo perché alla fine esiste questo minigioco qui da un bel po' Infatti ci giocavamo ogni tanto io Vertigo e altri miei amici Che si chiama Master Builders Di non perderci più in chiacchiere Infatti adesso vi lasciamo qui Su questa ecco qua Ok ragazzi siamo entrati in Master Builder Però visto che manca ancora un po' di tempo Io direi di stoppare qui Rieccoci qua ragazzi all'interno del minigioco E mentre noi appunto andiamo a costruire ciò che ci viene scritto Vertigo vi spiegherà brevemente in che cos'è che consiste questo minigame Allora in cosa consiste? È molto semplice Abbiamo del tempo ovvero 5 minuti per costruire una qualsiasi cosa che rispetti il tema che ci è dato In questo caso il tema è Halloween E alla fine ogni costruzione verrà messa davanti al giudizio degli altri giocatori Che potranno votare con mi sa 6 livelli diversi di valutazione Ad esempio fa schifo, è bellissimo, è stupendo eccetera E questo porterà un calcolo di un punteggio finale E niente chi avrà il punteggio più alto alla fine vince Quindi ragazzi se vi piace buildare Vi piace un minigame appunto per buildare Con i vostri amici per far vedere chi è più figlio Chi è che builda meglio Questo minigioco qua fa per voi Trovate ovviamente l'IP in descrizione Ma adesso andiamo a costruire un qualcosa che riguarda Halloween Non so quello che sto facendo al momento Perché io devo dire la verità Faccio abbastanza schifo a buildare Io non ho idea di che cosa No a me sarà orribile Io sono convinto che la mia esplode Perché se fate tipo una costruzione non inerente al tema O comunque una costruzione abbastanza penosa Come quella che sto prendendo in questo caso Ma ancora non si sa Se molte persone la votano male Appunto esplode Quindi non verrai neanche valutato insomma Esatto come ho detto prima I punteggi insomma alla fine Vanno a definire chi vince Chi perde e chi esplode Ovviamente chi è che vince Vincerà più gem rispetto agli altri Comunque è una cosa molto molto figa E una cosa che volevo chiedervi appunto Visto che non ci sentiamo da un sacco di tempo raga Se potevate magari scrivermi In generale o in privato Ma conviene qui nei commenti Così almeno parlate un po' tutti Com'intanto è squadrato a merda Scrivetemi O comunque scriveteci Che cos'è che avete fatto In questi sei mesi Possiamo dire Della mia assenza Perché intanto è passata un'estate in pratica Cioè io non faccio video da prima dell'estate Di preciso da aprile Quindi voglio sapere appunto Come sono andate le vacanze Come state eccetera Questi temi sono abbastanza casuali Devo dire che però La community che sta dietro a questo minigioco è bella Nel senso non ci sta troppa gente stupida Nel senso ci stanno i pazzi Che si mettono a disegnare Cose un po' strane Vabbè disegnano peni Però ecco Comunque In quel caso Se vedete che una persona ha disegnato Un qualcosa di osceno Che non c'entra un cazzo Potete tranquillamente reportarlo E verrà Espolso dal server Fino ad arrivare a un ban Penso Però non ne sono completamente convinto Secondo me ragazzi È perfetta Guardate potete fare adesso uno screen E mandarlo tra le top Ci sarà qualche canale che fa top build Top qualcosa Su youtube Voi mandate questa Vincete sicuro Allora questo non si capisce per niente Che ha In merito va a voi Allora adesso andiamo appunto a vedere Quello che ha disegnato la gente Che è in questo server Che mi fa abbastanza paura Perché Oddio Oh questa vuoi è carina Io direi di votare È simpatico Oh io metto un is ok Perché non è proprio male Vabbè non è E comunque Halloween Cioè non è che ce l'ha scritto Disegnare una zucca Quindi alla fine tu potevi fare quello che volevi Quest'anno i villager Ma sono L'opera d'arte Cioè L'opera d'arte Ovviamente voi non potete votare la vostra costruzione Quindi se io metto Eppi di sasso Non posso votarla Perché Allora Ecco Allora Come dicevo prima Quando esplode Vuol dire che sei Che sei andato alla grande Nel senso Tutti hanno votato la costruzione Mi sono scordato Perciò la causa non è mia Cos'è Dai però deve esplodere anche questa Esplosa la mia È giusto E questa qui non esplode Va bene Ok va bene Va bene Questa qui me la segno comunque Questa qua l'hai fatta te Sicuro Allora Io posso votarlo Cioè o no Io metto it's ok L'hai fatta te L'hai fatta te Io metto Wow wow Devo essere sincero però Questa roba qua Potete anche risparmiartela Con i dolci Oh ma che cazzo Non ha senso Allora Non è fatta la zucca No quelle là sono le caramelle del dolcetto Oddio ma perché Fa paura Poi ci sono i ragni Quindi a te piacciono molto Perfetto Magari stanotte ti ritrovi un ragno Di quell'anno in letto Magari stanotte lo ritrovi tu invece Ah la cosa bella è che si possono anche aggiungere Tipo delle particelle Cioè oltre al disegno Potete aggiungere altre cagatine Esatto Vedete che ho il pavimento fatto in lava La notte eccetera Si potrebbero aggiungere dettagli vari Questo fa schifo a merda È proprio orribile È pur sempre meglio del mio Però È orribile quindi Votiamo il minimo Infatti esplode Ecco fatto Era fatto di tantissimi Comunque poi alla fine ragazzi Ci sta una classifica a destra Dove ci stanno tutti quanti i player Quindi chi è che ha fatto il punteggio più alto Naturalmente sarà in cima E chi è che ha fatto il punteggio più basso Comunque tra i più bassi Allora questo Questo non c'ha molto senso Appunto perché non Se pare un'invasione Mi sono anche scordato di votarlo Vabbè ma alla fine è inerente ad Halloween Qualsiasi cosa Oh ma io non sto Oh ok Questo che ha più che una zucca Mi sembra Un apple pie Se sa guardi così Sione parla in inglese Per dire torta di mele È ovvio Cioè Apple pie Bisogna anche avere delle skills Per giocare Apple Papai Yes Yes Ok basta Ma oddio davvero Io avevo detto Che questo qui avrebbe vinto Perché Per quanto possa essere semplice Ragazzi in questo gioco Anche la semplicità Viene appunto Presa come cosa Mi dispiace Ma questa non è accettabile È accettabile Accettabile Mi dispiace No io sono arrivato Manco sul podio Mi dispiace Una prossima volta Potrai fare un qualcosa Adesso mi preparo Per la prossima volta Perfetto Ok ragazzi Siamo ritornati Nella hub E con noi abbiamo Vertigo In smoking Assieme alla mia mucca Allora Adesso In pratica questa qui È una roba che si può fare Con la 1.8 Magari Vertigo potrei anche Spiegarci un'altra volta Come si fa Ma a parte quello Se volete ragazzi Vedere un altro video O su Mindplex O comunque Sempre su questo Mi gioco qui La prossima volta Io e Vertigo La faremo con quello smoking Anche se io dovrò appunto Creare il mio smoking Personale Ma chiederò A Vertigo ragazzi Non vi preoccupate Non vi preoccupate A fine video Ci penso io Ho i miei metodi Per contrattarlo E quindi ragazzi Io spero che Contrattarlo E certo E mica no Quindi ragazzi Ovviamente Vi lasciamo L'IP Di questo server In descrizione Vi ricordo Il mio game È Master Builders Quindi se volete giocare Con gli amici Giocateci tranquillamente E niente ragazzi Fatemi sapere Come sono stati Questi sei mesi Senza di me Fatemi sapere Se vi sono mancato Se non vi sono mancato Per niente E quindi Io direi che per questo video È tutto Spero che vi sia piaciuto E ci vediamo Al prossimo Ciao a tutti ragazzi Arrivederci Ciao a tutti